Ben trovati, oggi vediamo il trattamento in posizione supina, si tratta di una breve sequenza di trattamento dove si può considerare di trattare alcuni meridiani, in particolare in questo caso principalmente il meridiano di vescica urinaria, dalla posizione supina, quindi una posizione del tutto inusuale per trattare questo meridiano che si trova dietro, quindi nella parte posteriore del corpo. Utilizziamo questa forma perché ci può aiutare nei casi in cui la persona che trattiamo per diversi motivi o non può stare in posizione prona, quindi girata pancia sotto o per diverse situazioni o perché presenta un addome molto voluminoso o per donne incinta o per altri casi in cui non vogliamo o non possiamo fare girare il nostro ricevente, il nostro bucche pancia sotto. Quindi trattare le linee posteriori dalla posizione supina. Partiamo dai piedi. Per prima cosa un contatto alla base dei piedi e poi delle pressioni di stiramento con la funzione di aprire le articolazioni delle ginocchia e delle anche all'interno verso l'esterno.